E ora in comune tra le mille difficoltà quotidiane e i problemi legati alla ricostruzione scoppia anche il caso del crocifisso. Dopo le battaglie degli anni scorsi che fecero molto parlare di Adel Smith, ora è bagarre anche in consiglio su questo tema. Il simbolo religioso nell'aula dell'assise civica in realtà non è mai stato esposto dal giorno della sua inaugurazione, il 30 aprile del 2013. La mozione del consigliere di Forza Italia Roberto Tinari è stata rispinta durante la seduta. Tinari chiedeva che il crocifisso fosse appeso ed è subito polemica. Gli ha risposto direttamente il primo cittadino Massimo Cialente che ha parlato di ipocrisia e vergognosa strumentalizzazione del caso. Sulla base di una sentenza della Corte Europea Tinari chiedeva l'esposizione del crocifisso in aula, ma il consiglio su questo punto pure è apparso spaccato. Nove voti a favore, nove contrari, un pari che consentirà però a Tinari di riproporre la sua mozione. Temono che qualcuno li osservi, ha ironizzato il consigliere di Forza Italia, ma loro non vogliono essere visti neanche da Gesù Cristo. Cialente replica, il consiglio è sovrano, se la mozione in futuro passerà il crocifisso andrà appeso. Poi però ironizza anche lui, mi aspetto però poi dai consiglieri, da tutti, un comportamento da cristiani. Il sindaco Cialente dice di non ricordare sia stata una dimenticanza appenderlo, ma che ad ogni modo in nome della laicità delle sale comunali non viene messo. Il sindaco non si scompone neanche di fronte al voto favorevole di due dei suoi consiglieri, di Nicola e Durante, e parla di libertà di coscienza.